C'è una cosa che tiene uniti tutti i caschi Arai ed è l'ossessione per la sicurezza del marchio giapponese. In Arai non si limitano a fare semplicemente caschi, ma vogliono che siano al top, caschi ancora fatti a mano con lunghe fasi di lavorazione e il Quantic, la novità di cui parliamo oggi, non fa eccezione. È un casco valido in tantissime situazioni, ha una vocazione particolare per lo sport touring, ma a suo agio anche su naked e crossover stradali, ma andiamo a osservarlo da vicino. Il look è raffinato, sportivo ed elegante allo stesso tempo, moderno, è curato in ogni dettaglio, la linea è molto pulita ma arricchita dallo spoiler posteriore, in grado di regolarizzare il flusso d'aria superiore e laterale, a tutto vantaggio della stabilità e del comfort di marcia. Il Quantic è un casco che nasce per stare tante ore in testa e proprio per questo la ventilazione è curata al massimo. Sono infatti ben 12 le prese d'aria, 6 in emissione e 6 in emissione. Partendo dal basso c'è la nuova presa d'aria su tre posizioni sul mento, il doppio ingresso sulla visiera, quella centrale e le due laterali derivate dalla Formula 1. Spettacolare la presa d'aria annegata nel logo a Rai 3D da 3,5 mm di spessore, ottima alle basse velocità quando si guida con il busto eretto e che alimenta le due porte di aspirazioni centrali da 10 mm. Al posteriore lo spoiler, ereditato dallo sportivo RX-7W Racing, integra anche l'estrattore dell'aria, è regolabile su tre posizioni ed è il complemento degli altri 5 sfoghi d'aria. Il focus di ogni casco è la sicurezza, ma questo Quantic compie un ulteriore passo in avanti. È il primo integrale a Rai, infatti, a passare attraverso il nuovo e più rigoroso standard EC-R2206. Il nuovo standard introduce più test sugli impatti ad alta e bassa velocità e soprattutto i nuovi test sull'accelerazione rotazionale e in zone dove prima non erano previsti. Ma Rai, come da tradizione, va oltre con la certificazione Snell per superare il doppio test di impatto contro una superficie semisferica e il successivo test di penetrazione. La rigidità della calotta esterna realizzata in superfibra è qui abbinata a una calotta interna in IPS mono pezzo a tripla densità. È sempre stata il fiore all'occhiello dei caschi a Rai. Sul Quantic la calotta è realizzata utilizzando una tecnologia costruttiva che punta al miglior compromesso tra rigidità, resistenza e peso. È progettata non solo per assorbire l'energia di un impatto, ma anche per deviarla. Per far questo la calotta deve essere la più tonda, liscia e resistente possibile. In Rai questa proprietà viene definita glancing off, cioè la capacità del casco di scivolare dissipando l'energia dell'impatto. Quanto si alza l'attenzione a questo aspetto è testimoniato anche dal VAS, il Variable Axis System, che abbassa il sistema di montaggio della visiera e fa aumentare di 24 mm la superficie della calotta nella zona delle tempie. Ha tutto vantaggio dello scivolamento, ma anche della velocità nella sostituzione della visiera. Sicurezza sì, ma anche comfort. Ogni calotta dei Quantic copre solo due taglie e questo vuol dire i fitting. In più la base della mentoniera è più larga di 5 mm e questo vuol dire ariosità, minore costrizione. Gli interni in nylon spazzolato, removibili e lavabili, sono di alta qualità e super piacevoli sulla pelle. In più sono disponibili in differenti spessori, così da adattarsi sempre alla testa del pilota. Non mancano le tasche per gli altoparlanti, la tasca a coprifile integrata, l'alloggio per il sistema di comunicazione, il sottogola e il sistema di chiusura a doppio anello. La visiera è un pratico meccanismo di chiusura, azionando la leva si sblocca facendo entrare un po' d'aria e si solleva solo tirandolo un po' verso l'esterno. A lato pratico il Quantic è un casco molto valido, sia per il comfort garantito dagli interni, sia per il bilanciamento complessivo, anche alle alte velocità. Non fa ancora caldo in questi giorni di test, ma il livello di ventilazione è qualcosa di esagerato e questo vale per tutte le prese d'aria, davvero efficaci anche a bassa velocità. Un casco al vertice è insomma disponibile dalla XS alla XXL in 10 colori. Per averlo si parte da 649 euro per la versione tinta unita, a 789 euro per la variante grafica, sempre con P-Lock Max Vision incluso. Un prezzo importante, senza dubbio, come importante è il valore di ciò che è destinato a proteggere.